Buonasera intanto. Buonasera. A proposito della famosa mostra sul futurismo, come sono andate le cose nella sua versione? Io avevo parlato con Pietro Marchi, diciamo, verso ottobre-novembre di due anni fa, dicendogli che c'era la possibilità di portare questa mostra in Italia, se a loro poteva interessare, visto che avevano fatto una mostra importante su Balla qualche tempo prima, avevano acquisito la Casa Balla, e quindi poteva avere un senso. Nel frattempo il museo, il Kröller-Müller di Otterlo, di Amsterdam, stava in contatto con altri due musei, uno in Germania e uno in Danimarca, per avere la seconda sede della mostra. A gennaio mi ha richiamato, dicendomi, guarda, c'è molto interesse, evidentemente anche del direttore, di Giulie, e cerchiamo noi di portare la mostra in Italia. A gennaio inizia una trattativa molto articolata, perché la mostra era una mostra importante, il budget speso dal museo, dal Kröller-Müller, era un budget molto alto, che qui in Italia difficilmente per una mostra si arriva a spendere queste cifre. Ero molto contento, perché su un soggetto italiano, oltretutto, all'estero, era anche indice di una volontà di fare una cosa fatta molto bene. Qual è la cifra che hanno investito? 2 milioni e mezzo. 2 milioni e mezzo. Invece, in Italia, avrebbero dato su questo budget 700 mila euro? 700 mila euro, esatto. Più o meno adesso si aggirava intorno a quella cifra. E quindi, al mese di marzo, avevano, dopo una lunghissima trattativa, essendo centinaia di prestiti, avevano concordato tutto, avevano praticamente siglato, anche se non ancora con la firma definitiva, il protocollo di intesa. Era tutto fatto per… infatti mi chiamano, mi chiama proprio Pietro Marchi e dice guarda, è stato già deciso, la mostra si fa, abbiamo concluso, dobbiamo solo andare a otterlo, a firmare il concordato, a firmare questo protocollo e la mostra viene. Nel frattempo mi dicono, andiamo dal ministro a chiedere una piccola integrazione sul budget per la mostra. E quello che io non sono andato a questa riunione, ovviamente, perché era una questione interna, tecnica, diciamo, della fondazione Maxi, che andava dal ministro, quindi io non sono andato. Alla riunione il ministro, a quello che mi è stato riferito, ha detto no, questa mostra non sa da fare e così hanno annullato la mostra perché, secondo quello che mi è stato riferito, ma credo che sia proprio esattamente così, questa mostra dobbiamo farla noi e naturalmente sul noi, essendo io un italiano che fa una mostra su un soggetto italiano, tra l'altro un modo molto, diciamo, anche nuovo di affrontare il futurismo perché era una mostra sul rapporto tra futurismo e avanguardie internazionali. Però è limitato in un tempo, in una fetta temporale che arriva fino al 39. No, no, arriva fino, ma sì, certo, il futurismo finisce poi, con la morte di Marinetti il futurismo, diciamo, si chiude. Però glielo chiedo perché Carpi ieri mi diceva, l'altro ieri, che la mostra che loro stavano programmando parte dal 44 e arriva al 2004, quindi sarebbero le influenze sulle avanguardie del futurismo. Quindi io le chiedo, secondo lei è per questo che loro non hanno preso la sua perché era limitata temporalmente e legata al ventennio? Ma no, assolutamente no, è improbabile questa cosa. Nel senso che comunque era una mostra che copriva un aspetto che loro non avrebbero mai potuto coprire perché c'era dietro cinque anni di lavoro per fare una cosa del genere, con opere che venivano da tutto il mondo e che soprattutto mostravano qual era stata l'influenza sulle avanguardie storiche del futurismo. Quindi una cosa non... D'altra parte, io quando è stata annullata la mostra ho detto, scusate, è un danno per tutti, è un danno per me che vi ho suggerito la mostra e nei confronti del museo faccio io una brutta figura, oltre che l'Italia naturalmente, ma soprattutto ormai, perché si parlava, era la fine di marzo, la mostra sarebbe stata inaugurata in Olanda nel mese di aprile. Quindi per gli altri musei in Danimarca o in Germania era impossibile ormai trattare uno spostamento, quindi un danno anche per l'immagine del futurismo in Europa, perché ci sarebbe stata un'altra sede nella quale tranquillamente si sarebbe potuto vedere. La mostra è un danno per il museo che ovviamente con quelli 700 mila euro che andavano a pagare tutta una serie soprattutto di rientri delle opere, cioè il viaggio di rientro dell'opera, eccetera, loro avrebbero avuto un piccolo sconto dai 2 milioni e mezzo che avevano speso, facciamo conto che 100-200 mila euro sarebbero stati scalati dal budget iniziale, quindi un danno economico oltre che un danno d'immagine. Io gli ho suggerito di tenere la mostra, visto che tanto nessuno sarebbe stato in grado di progettare e realizzare una mostra sul futurismo che partiva allora, io ci ho messo cinque anni, ma diciamo che almeno un paio d'anni ci volevano, due o tre anni, e ho detto, guardate, la volete fare prima? D'accordo, però portiamo prima questa, fate un anno di futurismo e prima viene questa e poi vengono altre mostre, o la vostra mostra, che comunque non coprirà l'argomento da me trattato. C'è stato un ulteriore colloquio con il ministro, il ministro ha detto, no, no, questa mostra deve essere targata da noi, deve essere nostra, quindi la mostra non si è fatta. Quindi da noi vuol dire deve partire da noi? Non ho ricevuto neanche una telefonata dal ministro, in questo senso. Devo dire che sia Giulia, che era direttore del Maxi, sia Simon Gini, erano d'accordo su questa cosa, perché credo che si sentissero anche molto imbarazzati in questa situazione. E hanno d'accordo su cosa? Su questo programma, di portare prima la mostra, che era stata già definita in tutti i dettagli. Quindi a quel punto Simon Gini già era, cioè già faceva parte di un ipotetico comitato scientifico che poi si è allargato agli altri attori quando lei è uscito di scena. Simon Gini già era lì? Simon Gini già era lì, sì, perché il ministro lo aveva già sentito e voleva realizzare la mostra evidentemente con persone sue. Però la domanda è questa, lei ha fatto questo accordo con il museo, era tutto pronto, aveva qualcosa di scritto? Avevate costilato un accordo, no? Ma l'accordo era in trattativa ed era arrivato alla fine, mancava la sigla sul contratto di cessione della mostra. Perché di solito io questo non capisco questa cosa. Di solito quando si spostano le mostre intere, l'accordo e quindi scritto, quello legale, è solo alla fine che si fa, non si fa uno e uno alla fine? No, perché ci sono molte cose da definire, per esempio ci sono alcuni quadri che non possono venire perché il museo concede il prestito per una sola sede, molti, alcuni, però già per quel quadro bisogna prevedere un'eventuale sostituzione, quindi si definisce tutto questo e c'è stata una lunga trattativa che è andata dal gennaio alla fine di marzo. Quindi tre mesi di trattativa e si era arrivati a stabilire tutti i dettagli sui trasporti, chi sarebbero stati i trasportatori, cioè tutto. E lei non è potuto rientrare neanche come consulente della nuova mostra? No, Simongini molto correttamente le ha detto io vorrei che tu entrassi nel comitato della mostra, ma io onestamente intanto una mostra sul futurismo l'avevo già fatta. E poi io ero molto occupato con altre mostre, io stavo preparando una grande mostra di De Chirico al Metropolitan Museum di Tokyo, quindi ero impegnato sotto molte mostre tra l'altro che si è tenuta e che ha avuto quasi 300.000 visitatori, quindi una mostra che è andata molto bene e molto bella. Quindi ho declinato l'invito perché avevo altri impegni e poi perché comunque è anche difficile inserirsi in una mostra che è la causa dell'eliminazione di un'altra mostra curata da me. Però sarei potuto anche passare sopra a queste questioni, però io avevo altri impegni. Ma lei è a conoscenza invece di come loro hanno strutturato questo comitato scientifico composto anche da D'Ambruso e da Carpi? Come avevano strutturato la mostra? Perché mi diceva Carpi che l'hanno completamente, quando loro li hanno estromessi, l'hanno di nuovo ripensata e quindi queste opere che loro avevano scelto mi hanno detto che tra l'altro c'erano alcune opere che venivano dalla sua mostra comunque. Guardi, io poi dopo non mi sono assolutamente occupato di questa mostra, non ero nel comitato perché avevo declinato l'invito e non mi riguardava più niente. Non so come Simongini abbia coinvolto o non coinvolto le persone, quali quadri abbia chiesto, quali abbia ottenuto. Onestamente non so nulla. So quello che abbiamo letto sui giornali tutti. Siccome sia D'Ambruso che Carpi sono stati molto rispettosi nei confronti di Simongini, ma entrambi hanno detto che Simongini non era e non è un esperto di futurismo, secondo lei perché hanno contattato proprio un non esperto di futurismo per fare la mostra sul futurismo? Quello che ne posso dire è solo un'ipotesi, se lei ne ha un'altra me la suggerisca. Effettivamente Simongini non ha mai scritto sul futurismo, quindi onestamente non è coinvolto negli studi sul futurismo, non è un esperto internazionale di futurismo. Io credo perché era amico del ministro e quindi il ministro ha incaricato una persona di sua fiducia. Per quanto riguarda invece il caso del boccioni controverso tra D'Ambruso e la Esther Cohen, che poi è stato archiviato, lei ha conoscenza di qualcosa rispetto a questo? So che ci sono state delle questioni legali, però non so neanche rispetto a quale quadro cosa. Certamente il libro di D'Ambruso è molto discusso, molte delle attribuzioni sono molto discusse. Ultima domanda riguarda sempre D'Ambruso e il suo rapporto con Russo, perché fino a un certo punto loro avevano collaborato, poi si era creato un po' di, non so, un tipo di conflitto in merito a degli eventuali archivi, forse proprio con l'archivio di Boccioni, per cui durante tutta l'evoluzione della preparazione della mostra a un certo punto D'Ambruso, lei o qualcuno non lo volesse, lei sa qualcosa riguardo questa situazione qui? Io non conosco i rapporti da D'Ambruso e Russo. Quello che le posso dire è che Russo è un gallerista molto serio, che ha avuto negli anni molte opere significative, futuriste, io le conosco, le ho viste, le ha cedute a dei suoi collezionisti, e quindi in qualche modo Russo è il tramite per il prestito di certe opere a una mostra, perché poi il collezionista lo conosce, lo conosce il gallerista che ha venduto il quadro, non è una cosa di dominio pubblico, quindi il gallerista è sempre una persona alla quale ci si rivolge amichevolmente, collaborativamente, per avere dei suggerimenti o comunque per avere dei tre di union con i collezionisti che hanno questi quadri. Questo è una cosa normale. Io stesso per le mie mostre, non solo a Russo, ma ad altri mercanti seri, sono rivolto per avere delle opere. Per esempio la famiglia Carpi? La famiglia Carpi una volta chiesi un'opera. Quindi in qualche modo ci poteva essere anche in questo caso un conflitto tra la galleria Russo e la galleria Carpi? Ma guardi, non so se ci sia un conflitto tra gallerie, normalmente tra galleristi seri non ci sono conflitti, perché ognuno fa il suo lavoro. Generalmente è strano che un gallerista stia nel comitato scientifico o di una mostra. Ci sono dei comitati tecnici, ci sono tante altre. Era una moda che andava negli anni Ottanta, forse, che qualche gallerista per un maggior prestigio tenesse a farsi inserire nei comitati. Ma è una cosa che nelle mostre serie, diciamo, lì c'è un conflitto di interessi, in un gallerista che entra in un comitato scientifico. Nel russo né Carpi erano... Anche perché non... Scusi, scientifico, che cosa vuol dire? Che è scientifico? Cioè che chi partecipa ha un curriculum rispetto all'oggetto di studio importante di studio, di scoperta. Il gallerista fa un altro lavoro, cioè non è che studia le opere, le commercia, le vende, le conosce anche naturalmente, però c'è un interesse privato... Cioè è un po' anomalo che un gallerista faccia parte di un comitato scientifico. Cioè... Grazie a tutti.